Bufera amministrativa nel comune di Maiano Vetere. Il sindaco Carmine D'Alessandro è stato dichiarato ineleggibile, lo stesso primo cittadino però smorsa le polemiche e dichiara di essere il candidato sindaco per la prossima tornata elettorale. E' successo che quando mi sono candidato ero presidente di una fondazione che ho fatto per poter accedere ad un finanziamento di 500 mila euro per terminare la casa per anziani. Il giudice ha riconosciuto un'ineleggibilità che io ho rimossa appena sono stato eletto, quindi due anni fa, alla fine andremo alle elezioni l'anno prossimo perché se c'era un'incongruenza potevo sistemarla. Con l'ineleggibilità praticamente non è sistemabile e dobbiamo andare alle elezioni l'anno prossimo. Grandi cose non sono successe, nel senso che non sono stato condannato chissà che cosa. E' stata rilevata solo questa ineleggibilità e quindi pertanto sono stato revocato da sindaco. Il prossimo anno in cui Carmine D'Alessandro sarà candidato nuovamente alla carica di sindaco? Sì, sono candidato alla carica di sindaco perché se noi avessimo finito il mandato nei cinque anni il problema non c'era perché questo è il terzo mandato. Visto che ho fatto due anni e visto che comunque le elezioni noi le avevamo vinte, non è che le avevamo perse, mi ricandido sicuramente.